A distanza di oltre cinque mesi dalla richiesta di convocazione di un consiglio monotematico sui fatti criminosi avvenuti tra la fine del 2022 e l'inizio di quest'anno a Casarano, ai consiglieri di opposizione non sarebbe arrivato alcun riscontro. La missiva era stata protocollata lo scorso 28 dicembre e a distanza di mesi nulla è accaduto. Ci sono state diverse conferenze ma tutte procrastinate, tutte poi vediamo, il poi vediamo non va bene. Noi ci rendiamo conto che il fenomeno è sovracomunale. Casarano deve tornare ad essere anche per questo argomento il punto di riferimento e guida quindi dobbiamo essere noi a trascinare gli altri comuni. All'amministrazione inoltre la richiesta di un segno tangibile di lotta alla criminalità come la possibilità di ricordare la piccola Angelica Pirtoli, la vittima più giovane di mafia. Una delle prime cose da fare e noi non ci capacitiamo ancora come è possibile che la città che ha dato i Natali per pochi mesi alla piccola Angelica Pirtoli non abbia ancora un luogo dedicato a lei. Una vittima innocente di mafia uccisa in un modo orrendo deve essere ricordata, tutte le generazioni, tutti i ragazzi devono conoscere cosa è stata la storia di Angelica Pirtoli e della sua famiglia.